Pieno sostegno che Roma Capitale darà al progetto Cinecittà del PNRR per tutti gli aspetti di competenza del Comune, noi aiuteremo e sosterremo la realizzazione di questo progetto perché lo riteniamo, l'ho ritenuto da Ministro strategico e lo ritenerò fondamentale da Sindaco, quindi pieno sostegno. Il potenziamento di Cinecittà è uno dei progetti del PNRR, l'ho fortemente evoluto da Ministro, abbiamo stanziato 300 milioni per il rilancio di Cinecittà attraverso la costruzione di nuovi teatri di posa, attraverso l'innovazione tecnologica e digitale più moderna, attraverso la sostenibilità ambientale, attraverso la formazione delle persone per rendere ancora di più Cinecittà lo studio più importante d'Europa e fare di Roma la capitale europea del cinema e dell'audiovisiva. Io da Sindaco sosterrò la realizzazione di questo progetto come sosterrò il rilancio delle imprese della cultura creativa, lo faremo attraverso un programma Roma Creativa per sostenere le imprese, per valorizzare le persone, per aiutare Roma ad essere una capitale della cultura e della creatività. Il progetto è molto ben impostato come rafforzamento della capacità produttiva degli studio, ha una forte dimensione di innovazione digitale, attenzione alla sostenibilità ambientale, una valorizzazione della formazione e anche di una delle caratteristiche storiche di Cinecittà, da avere lavoro, buona occupazione, di qualità. Quindi questi elementi insieme, investimenti infrastrutturali, quelli digitali e tecnologici, quelli ambientali e quelli sulla qualità del lavoro, dell'occupazione, sulla formazione, costituiscono davvero un investimento strategico fondamentale per Cinecittà, ma per Roma e per l'Italia. Pieno sostegno che Roma Capitale darà al progetto Cinecittà del PNRR per tutti gli aspetti di competenza del Comune, noi aiuteremo e sosterremo la realizzazione di questo progetto perché lo riteniamo, l'ho ritenuto da Ministro strategico e lo riterò fondamentale da Sindaco, quindi pieno sostegno.